I tre linguaggi Grimm C'era una volta in Svizzera un vecchio conte che aveva un unico figlio ma così stupido che non riusciva a imparare nulla. Allora il padre disse ascolta figlio mio per quanto io faccia non riesco a cacciarti niente in testa. Devi andare via di qui maestri insigni proveranno a fare ciò che io non ho potuto. Il giovane fu così mandato in un'altra città e rimase presso un maestro per un anno intero. Trascorso questo periodo tornò a casa e il padre gli chiese ebbene che cosa hai imparato? Il figlio rispose babbo ho imparato quello che dicono i cani. Dio guardi esclamò il padre è tutto qui. Devi andare in un'altra città presso un altro maestro. Il giovane andò e anche questa volta vi si fermò un anno. Quando ritornò il padre disse ebbene che cosa hai imparato? Il figlio rispose babbo ho imparato quello che dicono gli uccelli. Allora il padre andò in collera e disse sciagurato hai perduto tutto quel tempo prezioso senza imparare nulla e non ti vergogni di comparirmi davanti. Ti manderò da un terzo maestro ma se anche questa volta non impari nulla non voglio più essere tuo padre. Così il giovane fu portato da un terzo maestro presso il quale rimase un altro anno. Quando finalmente tornò a casa il padre gli chiese ebbene che cosa hai imparato? Caro babbo rispose quest'anno ho imparato quello che gracidano le rane. Allora il padre andò su tutte le furie balzò in piedi chiamò la servitù e disse quest'essere non è più mio figlio io lo scaccio e vi ordino di condurlo nel bosco e di ucciderlo. Essi lo presero lo condussero fuori ma al momento di ucciderlo nebbero pietà e lo lasciarono andare. Poi strapparono a un capriolo gli occhi e la lingua e li portarono al vecchio come prova della sua morte. Il giovane si mise in cammino e dopo qualche tempo giunse a un castello dove chiese asilo per la notte. Sì disse il castellano se vuoi per notare laggiù nella seconda torre va pure ma ti avverto che rischi la vita è piena di cani feroci che abbaiano e latrano senza tregua e a ore fisse bisogna consegnare loro un essere umano che si divorano subito. Per questo nella zona ognuno era in lutto e in grande tristezza senza sapere tuttavia che cosa fare. Il giovane disse lasciatemi andare da quei cani feroci e datemi qualcosa da gettare loro in pasto a me non faranno nulla. Poiché questa era la sua volontà gli diedero un po' di cibo per gli animali e lo condussero giù alla torre. Quando entrò i cani gli scodinzolarono amichevolmente intorno senza torcio di un capello e mangiarono ciò che egli mise loro davanti. Il mattino seguente con grande stupore di tutti uscì sano e salvo dalla torre e disse al castellano i cani mi hanno rivelato nel loro linguaggio perché se ne stanno qua da recardanno al paese. Sono stregati devono custodire un gran tesoro nella torre e non si cheteranno fino a quando non sarà dissotterrato. I loro discorsi mi hanno inoltre rivelato come fare. A queste parole tutti si rallegrarono e il castellano disse se riesci a recuperare il tesoro ti darò in sposa mia figlia. Il giovane accettò l'impresa disse per lì il tesoro e i cani sparirono. Così sposò la bella fanciulla e vissero insieme felici. Dopo un certo periodo di tempo i due si misero in viaggio per recarsi a Roma. Per via passarono davanti a uno stagno in cui gracidavano delle rane. Il giovane conte capì quello che esse stavano dicendo ed era triste e pensieroso. Tuttavia non disse nulla alla moglie. Infine giunsero a Roma. Era appena morto il papa e fra i cardinali c'era grande incertezza su chi dovesse essere designato come successore. Finalmente convennero che fosse eletto papa colui che manifestasse un segno miracoloso della volontà divina. Avevano appena preso questa decisione quando entrò in chiesa il giovane conte e subito due colombe bianche come la neve gli si posarono sulle spalle e là rimasero a sedere. Il clero riconobbe in questo fatto il segno divino e senza attendere oltre gli domandò se volesse diventare papa. Egli era esitante e non sapeva se ne fosse degno ma le colombe lo convinsero ad accettare e rispose di sì. Allora fu unto e consacrato e così si compì quello che con tanta costernazione egli aveva udito dalle rane per strada che sarebbe diventato il santo padre. Poi dovette cantar messa e non ne sapeva neanche una parola ma le due colombe gli stettero sempre sulle spalle e suggerirono ogni parola che doveva dire.